Nel nostro paese, quindi sia in Italia che all'estero, nei campi delle eccellenze, dall'arte in tutti i vari settori, dalle risorse umane al territorio, all'agroalimentare, alla cultura, ma Valori Italia è anche sentinella dei diritti e della dignità delle persone e degli animali. A questo ci tengo molto. Grazie. Allora, tornando alla fondazione, ti chiamo presidente perché adesso è istituzionale. Allora, come possiamo tutti noi essere d'aiuto, anche nel nostro piccolo, alla fondazione? Bene, tutti potete fare molto e già fate, essendo qui presenti questa sera, potete supportare i nostri progetti uscendo, lasciandoci il vostro recapito in modo che vi possiamo ancora contattare. Potete certamente darci un contributo economico, ma potete darci anche il 5 per 1000 che non vi costa nulla e che tanto bene fa ai nostri progetti. Comunque, trovate tutto questo nel programma di sala. Non voglio ulteriormente prendere tempo perché vedo che si scalpita per quello che ci sarà dopo. Immagino, immagino.